Buongiorno da Sicilia 24, rieccoci come tutte le mattine con la nostra consueta rassegna stampa, andiamo a vedere le prime pagine di questo lunedì 9 maggio, direi di partire subito dal quotidiano La Sicilia, vediamo cosa ci propone in primissima pagina. Allora partiamo dalla parte politica, dopo l'intervista di Micichea, il quotidiano La Stampa che ha fatto molto molto scalpore, Micichea, musumeci un fascista, la replica, attacco stupefacente, e dunque nel centro-destra scoppia l'ennesimo caos. Poi in primo piano anche la questione ucraina, tutti per uno i paesi del G7 confermano l'appoggio all'Ucraina e dicono Putin non deve vincere la guerra, anche Draghi spinge per nuove sanzioni, con certo a sorpresa di Bono e Dejge nella metro di Kiev. Quindi Ucraina, guerra in Ucraina, Nato e politica. I temi principali questa mattina in prima pagina sul quotidiano La Sicilia, si parla anche di Covid, tasso di positività in risalite al 15,1% in autunno, si rischia una nuova ondata. I titoli in prima pagina del quotidiano La Sicilia e ancora si parla anche in taglio alto di città, ad esempio ad Acireale c'è il vincitore del concorso dei carri perché si è conclusa questa edizione della Carnevale, poi spacciava cocaina in via Capopassero, quindi la cronaca da Giardini Naxos in poste comunali, la protesta continua, questi sostanzialmente titoli più importanti, vedete si parla anche di calcio con la vittoria del Milan ieri in campionato sul campo del Verona. Questa dunque è la prima pagina del quotidiano La Sicilia, adesso andiamo a vedere il giornale di Sicilia, anche in questo caso in primissimo piano ci sono le questioni politiche perché le parole di Miciche hanno veramente squarciato un po' quelle certezze che sembravano essere ritrovate di recente, centrodestra infatti tregua già finita, scrive il giornale di Sicilia, in un'intervista a Miciche da del fascista catanese a Musumece, critica Renzi e Meloni, il presidente dell'Ars nega i toni, ma è bufera la russa, dice ora intervenga Berlusconi. Cinque giorni dopo il faticoso accordo sulla galla per la corsa al sindaco di Palermo, scoppia un nuovo caso e riemerge la faida in Forza Italia. E poi in taglio centrale il Palermo calcio che ieri ha vinto l'andata dei playoff di Serie C contro la Triestina, il Palermo inizia bene, doppietta di Floriano e la Triestina va a K.O. adesso giovedì il ritorno allo stadio Barbera, ma si parte già da un ottimo risultato con questo 2 a 1 ottenuto in trasferta ancora Sport con il Milan, vedete Tris di gol al Verona, il Milan la sorpassa, anche Cavendish si impone, domani Avola Etna, in questo caso si tratta del Giro d'Italia che dunque si appresta a sbarcare in Sicilia con due tappe, tutte da vivere, che ovviamente seguiremo. E ancora il volo ospite dell'Eurovision, siamo cresciuti, dicono i membri del gruppo, Pantelleria, l'Isola del Vento, Dammusi e coltivazioni particolari per resistere alle raffiche. questi titoli in prima pagina, chiudiamo con il giornale di Sicilia parlando di guerra in Ucraina, altre armi e sanzioni più dure, il G7 si schiera con Zelensky e questo adesso è un argomento che ritroveremo spesso nei quotidiani nazionali che andremo tra poco ad osservare, ad analizzare. E poi il Covid, meno casi e calano i ricoveri, ieri erano 2288 i nuovi contagi in Sicilia. Andiamo avanti, adesso andiamo a vedere cosa ci propone in prima pagina il quotidiano La Repubblica, grande spazio ovviamente alla questione in Ucraina, il G7 sfida Putin con una foto di Zelensky in primissimo piano. Andiamo nel dettaglio. Uniti contro il Cremlino, non deve vincere, nuove sanzioni intese sul blocco energetico russo, inviati altri aiuti militari. Zelensky dice il male è tornato, i russi si ritirino da tutta l'Ucraina. Oggi la parata a Mosca, trionferemo noi come nel 45. Intanto domani Draghi sarà a Washington, fare di tutto per il cessate il fuoco. Queste dunque le parole di Draghi che come detto è pronto ad approdare negli Stati Uniti per incontrare il presidente Biden e poi tutte le altre sezioni riguardanti sempre la guerra in Ucraina, il quotidiano La Repubblica dà sempre molto spazio a questo argomento. Chiaramente lo sport con la Ferrari, con la Formula 1, il solito Verstappen, rovina a Miami la doppietta Ferrari. Rovina a Miami la doppietta Ferrari perché poi alla fine è stato lui a trionfare nonostante le due Ferrari fossero partite nelle prime due posizioni della griglia. Passiamo alla Corriere della Sera, vedete anche qui si parla molto della situazione G7, Putin, guerra in Ucraina. Il G7 preme fermare Putin, Zelensky con lui è tornato il mare, lo Zare, la festa a Mosca, via la feccia nazista. Sanzioni anche sull'energia, Draghi, le misure e l'impegno per la tregua, raid su una scuola, sono 60 i dispersi perché ovviamente si continua nel frattempo a combattere nonostante discussioni su sanzioni e quant'altro, repliche dal Cremlino eccetera, ma si continua a combattere dunque avete visto un altro raid su una scuola, 60 i dispersi. Poi l'intervista di spalla a Enrico Letta, l'Ucraina e l'Europa tocca a noi costringere il Cremlino alla pace. Vedremo come si evolverà questa situazione, intanto la Russia si prepara a questa parata, vediamo un po' che reazioni arriveranno poi dal Cremlino. Noi proseguiamo, andiamo adesso sul quotidiano La Stampa, anche qui le parole del G7, Putin non deve vincere la guerra, dal G7 spinta a rafforzare le sanzioni, parla Ren, possiamo reggere uno stop al gas, ma serve un piano anti-inflazione. Queste dunque le parole della first lady americana, ancora guerra in primo piano, urla del silenzio, queste sono riferite alla parata che dovrebbe svolgersi in Russia, vedete anche il dettaglio, oggi la parata, lo zar mostra i muscoli, i missili su una scuola in Donbass, 60 sotto le macerie, quindi la Russia prova ad ostentare la sua presunta superiorità mostrando i muscoli, in questo caso come scrivono i colleghi del quotidiano La Stampa in questa parata che sarebbe dovuta essere quella della vittoria, ma in realtà non è così perché la guerra sta vivendo una fase decisamente di stallo. Andiamo avanti con le nostre prime pagine, vediamo il quotidiano La Nazione, anche qui si parla della questione ucraina, i sette grandi, Putin non deve vincere, dunque il G7 ribadisce la linea dura, Zelensky invitato al vertice, vogliamo il ritiro totale dei russi, ha dichiarato il presidente ucraino, ma ovviamente siamo lontani da questo scenario, diciamo così. Andiamo avanti, abbiamo ancora un po' di prime pagine da leggere insieme a voi, vediamo il giornale l'Italia litiga sulla Nato, scrivono i colleghi del quotidiano il giornale che parla di battaglia politica, cresce il fronte bipartisan, critico col governo, appiattito sugli Stati Uniti, Salvini dice Draghi inviti Biden a moderare i toni, il PD solo fake e intanto vedete oggi la parata dello Zara Mosca contro la feccia nazista. E poi ancora si parla di sanzioni, il G7 a Baia, l'Unione Europea non morde, titolo decisamente ironico ma forte questo scelto questa mattina dal quotidiano il giornale. Draghi preme per nuove misure ma Bruxelles rinvia ancora l'embargo sul gas russo e quindi vedete c'è sempre questo clima di totale incertezza e indecisione. Vediamo il mattino, andiamo un po' a scoprire i titoli prima pagina del noto quotidiano napoletano, partenopeo, sanzioni, l'Unione Europea paralizzata, troppi veti, slitta ancora l'accordo sull'embargo al petrolio russo, il G7 Putin non deve vincere, il ministro Cingolani dice l'Italia è in economia di guerra sul gas indipendenti solo tra due anni. E questo il titolo principale riferito dunque alla questione europea e ucraina sul quotidiano il mattino, da il mattino al quotidiano libero che invece in prima pagina cambia argomento, allora la lista dei comuni che alzeranno le tasse e attenzione attenti alla busta paga si legge sul quotidiano libero, andiamo a scoprire perché aumenti IRPEF per coprire buchi di bilancio, in 23 capoluoghi lo Stato darà il via libera, ci sono Milano, Genova, Firenze e Venezia e poi anche qui si parla chiaramente di Nato e Ucraina, la linea dura americana divide la Nato in Europa, no le trattative sulla Crimea, i dubbi di Parigi e Berlino, questa è la prima pagina del quotidiano libero. Vediamo adesso il messaggero quotidiano romano, petrolio si legge, l'Unione Europea rinvia ancora il titolo, Bruxelles divisa sullo stop al greggio il G7, Putin non deve vincere questo conflitto e poi in taglio centrale anche il concerto degli U2 nella metrò di Kiev, il rock della solidarietà si legge sul messaggero. Andiamo con questa notizia che certamente è molto importante, minori sul web, ecco le nuove regole. In arrivo la norma, i figli potranno chiedere la rimozione delle loro foto nei post dei genitori, dunque questa certamente è una sorta di rivoluzione, chiamiamola così, ma chiaramente è una notizia da tenere molto molto in considerazione. Andiamo sul fatto quotidiano, poi leggeremo le prime pagine dei quotidiani sportivi, vediamo il titolo, la Nato boicotta il negoziato, Draghi obbedisce, Scholz invece no. Il cancelliere dopo il diktat di Stoltenberg dice non entriamo in guerra, questo dunque il titolo principale del fatto quotidiano con in primissimo piano una foto di Draghi e del presidente statunitense Biden. Andiamo a vedere i quotidiani sportivi partendo dalla gazzetta dello sport, in primo piano la corsa Scudetto con la vittoria del Milan sul campo del Verona, profumo di Scudetto, euforia Milan vince di rimonta a Verona, Leao fa gli asti, Tonali due gol e Florenzi chiude i conti, i rossoneri tornano a più due sull'Inter, Pioli dice innamorato dei miei ragazzi, ma c'è anche la Formula 1 in primo piano, Ferrari festa a metà, Gioia Verstappen, Leclerc resta comunque leader della classifica mondiale ed ancora la corsa è lunghissimo, il mondiale è lunghissimo dunque in bocca al lupo alle Ferrari che comunque stanno facendo benissimo. Andiamo su tutto sport, si parla di Juve in primo piano, Allegri divide e impera, crescono i tifosi critici, non cala la solidità della panchina, nostra inchiesta su pro e contro di Max, infortuni il club cambia qualcosa, dunque in casa Juve non tutti sono felici di Max Allegri. Ancora Milan, Leao e Tonali, il Milan vola verso lo Scudetto, la vittoria di ieri sul campo del Verona ha riportato i rossoneri in cima alla classifica quando mancano ancora due partite alla fine del campionato e poi la Formula 1, podio da mondiale a Miami, vince Verstappen dopo una lotta molto serrata con Leclerc, Sainz terzo per la Ferrari, sono punti preziosi, il campionato si giocherà tra Max e Charles, i due marziani, così il quotidiano tutto sport definisce Verstappen e Leclerc. E chiudiamo con il Corriere dello Sport, anche qui il Milan in primo piano, mani sullo Scudetto, titola il quotidiano romano, Pioli torna in vetta con Leao Tonali, già domenica può festeggiare e poi le altre partite, Blitz Atalanta, stasera Fiorentina-Roma, che sprint per l'Europa, ancora tanti verdetti da dare in campionato tra appunto la corsa Scudetto, la corsa all'Europa e poi la corsa salvezza, infine le Ferrari, Max doma le rosse, Max sarebbe ovviamente Verstappen che vince davanti alle Ferrari, grande spettacolo a Miami, il campione del mondo passa Leclerc dopo nove giri e lo tiene dietro, distacco ridotto a 19 punti mentre Sainz è al terzo posto, questi dunque i titoli di oggi nella nostra rassegna stampa che possiamo chiudere qui, noi ovviamente ci vediamo più tardi con tutte le nostre edizioni di Spazio Notizia, dunque vi aspettiamo, rimanete su Sicilia 24, a dopo.